Il tavolo tecnico intermedio per discutere del futuro della Treofan di Battipaglia è fissato per domani all'ora 15 presso il Grand Hotel Salerno. Le sigle sindacali CGL, Cisle e Willi, in un comunicato congiunto redatto dopo l'ultima riunione al Mise, chiederanno di verificare tutte le possibili soluzioni per fare in modo di non compromettere il futuro dei lavoratori Treofan e del mantenimento delle attività produttive. Il tavolo tecnico intermedio per i vari incontri romani sarà preceduto da riunioni a livello locale per approfondire e mettere ancora una volta in discussione il piano industriale. Tutti auspicano che si possa imboccare la strada giusta e risolvere la delicata questione occupazionale.